Mi dobbiamo dire una cosa Ci sposiamo Io mi sposo con Margherita perché è una persona che mi apprezzo Io, stupida, che pensavo che ci si sposasse per amore Affrontalo al capitano, ma per sempre Prontissimo Tomas, mi prego, mi dico a prendere Fabrina, ma... Che c'è che... Sabina! Marciallo dei Carabinieri sotto inchiesta Arrestare il Marciallo Cecchini Qualsiasi cosa succede, noi ci saremo sempre Questo posto senza di lei non è lo stesso Don Matteo X, gran finale di stagione Giovedì prossimo, ultima puntata, alle 21.20 Sul Rai 1